4 kg di marijuana sono stati scoperti dai carabinieri durante una perquisizione nel quartiere catanese di Librino. In manette è finito un 32enne catanese che poco prima era stato trovato in possesso di pochi grammi di marijuana. Sono state proprio queste dosi a insospettire i militari che hanno poi avviato i controlli in casa dell'uomo. Nell'appartamento infatti è stato scoperto il carico di droga e addirittura una sorta di serra con un impianto dotato di sistema di ventilazione controllata, lampeta ad alta pressione e fertilizzanti. La coltivazione era nascosta da una perete di cartongesto fornita di due condotte di erazione con filtri per evitare che l'odore acre delle marijuana si diffondesse nel resto della casa. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.